Come posso trovare il soft starter ottimale per la mia applicazione? Utilizza il tool di simulazione per soft starter STS per scegliere il soft starter più adatto. Con questo strumento puoi trovare il soft starter più adatto attraverso l'inserimento di alcuni parametri. Prima di iniziare puoi impostare la lingua e altri valori di default nelle impostazioni. Inizializza i parametri tramite simulazione. I campi sono impostati con valori predefiniti che potete modificare. Quindi clicca su motore per regolare i parametri. Possiamo indicare una potenza nominale di 90 kW, ma è anche possibile specificare la corrente nominale. Il pulsante seleziona dalla lista porta a una lista motori gestita da Siemens. In alternativa puoi utilizzare il valore dei tuoi motori. Per la ricerca del motore più simile al nostro scopo sfruttiamo l'elenco disponibile e selezioniamo un motore di tipo IE3. Ora puoi selezionare la tua applicazione tramite il pulsante Carico. Selezioniamo una pompa e impostiamo la coppia di carico alla velocità nominale al 75%. Per la nostra pompa abbiamo bisogno di un tempo di avviamento di 5 secondi. Infine possiamo specificare alcuni parametri dell'applicazione. La selezione dei soft starter è filtrata in base ai parametri definiti. Clicca sul menu per accedere ai soft starter suggeriti e anche qui puoi impostare ulteriori parametri. Con il pulsante Funzioni aggiuntive, ad esempio, puoi inserire avviamenti orari o se lo desideri una protezione da sovraccarico del motore. Una volta trovato il tuo soft starter sarà possibile stampare un report. In questo report troverai i tuoi dati e tutti i valori corretti che sono richiesti da inserire nel tuo soft starter. Così abbiamo selezionato rapidamente un soft starter adatto alla tua applicazione. Lo strumento di simulazione è utilizzabile anche come app sul tuo smartphone.